ciao a tutti oggi faccio questo video per presentarvi questo nuovo prodotto della tresfere che già vi ho fatto vedere nei scorsi giorni per foto su facebook e volevo farvelo vedere proprio diciamo con un video in modo da essere più realistico possibile allora questo prodotto si chiama caldo cotone a braccio quindi della tresfere è un prodotto di 50 per cento cotone e 50 per cento acrilico parliamo di gomitoli di 50 grammi con una lunghezza di 165 metri per cui rende molto rispetto al fiocco che è 125 metri considerate che avete 40 metri in più rispetto al del cotone fiocco che quello cotone 100 per cento chiaramente quindi essendo avendoci un po di acrilico rimane un pochino più spesso ok leggermente più spesso rispetto al cotone fiocco ma comunque una resa maggiore allora i ferri consigliati da lavorare sono tre e mezzo cinque mentre l'uncinetto viene consigliato da un due a un quattro ok quindi chiaramente a seconda del lavoro che andiamo a fare utilizzeremo l'uncinetto più giusto per esempio se dobbiamo lavorare un amigurumi vi consiglio un due due e mezzo mentre se dobbiamo fare una copertina o una maglia insomma meglio un quattro ok magari poi dopo facciamo anche un piccolo esempio con gli uncinetti vediamo come come viene il lavoro anche vedere come si come si lavora adesso vi presento tutti i colori disponibili allora abbiamo partiamo dal bianco classico panna un giallo chiaro giallo poi abbiamo un mattone color mattone che assomiglia un pochino all'arancione che non è presente su questa con tra i colori proposti ma abbiamo questo mattone che si assomiglia poi abbiamo un vinaccia fucsia bordeaux rosa è un rosso passiamo alla tonalità del viola abbiamo un glicine e il viola un verde acqua un verde che assomiglia un po al verde militare un celeste che a vederlo così sembra quasi un grigio ma un celeste chiaro chiaro proseguiamo con un bel senape un beige per poi passare agli azzurri blu qui abbiamo un turchese classico un azzurro denim che è stupendo veramente lo utilizzerò sicuramente per fare una volta in jeans con il jeans abbinato perché veramente mi piace tantissimo un blu e poi passiamo marrone un grigio chiaro un grigio scuro e nero però questi sono i colori disponibili per questo prodotto che sono in tutto 24 sono 24 colori quindi gomitoli da 50 grammi anche se a vederli così potreste dire ma non sono tutti uguali questo per esempio più piccolo questo più grande è solamente che questo è stato probabilmente arrotolato meno diciamo stretto rimane anche il gomitolo se lo schiaccio rimane più morbido mentre questo se lo schiaccio rimane molto più rigido è stato avvolto semplicemente un pochino più stretto quindi a seconda diciamo di quando sono stati fatti forse hanno diciamo avuto diciamo un arrotolamento diverso ma il prodotto è sempre identico lo stesso ok come detto prima è un prodotto che possiamo utilizzare per tantissime lavorazioni dalle copertine alle maglie agli scialli agli amigurumi possiamo utilizzarlo in qualsiasi stagione perché essendo metà cotone metà acrilico comunque può essere è fresco diciamo non è però diciamo comunque caldo perché c'è l'acrilico che mantiene comunque un po il calore ho preso un gomitolo in questo caso è un rosa e vi faccio vedere diciamo com'è diciamo il filato visto da vicino vede sulle dita quanto è lo spessore e la ritorzione che ha rimane molto morbido e vediamo come lavorarlo che uncinetto utilizzare se dovete lavorare un amigurumi vi consiglio vivamente il numero due d'uncinetto potete utilizzare anche un due e mezzo e dopo vedete come volete il lavoro diciamo a me piace bello compatto e comunque bello chiuso diciamo senza tanti buchini quindi il due secondo me è perfetto vedete come si lavora non si smaglia quindi si lavora molto bene con il due va benissimo vediamo invece con un uncinetto più grande se dobbiamo realizzare invece un progetto molto più morbido vedete invece con un uncinetto numero 4 quanto chiaramente lavoro venga venga più morbido e che si lavori comunque altrettanto bene quindi faccio vedere qualche punto per farvi rendere conto insomma della lavorazione bello ok quindi per una lavorazione più morbida il 4 va decisamente bene secondo me si può provare anche con un 4 e mezzo e per avere un lavoro ancora più traforato mi piace questo filato perché possiamo sostituirlo alla lana per i periodi sicuramente meno freddi e anche per l'estate diciamo nelle fresche serate diciamo estive quindi è morbido come diciamo quasi come una lana però è più fresco come il cotone quindi se fate un maglioncino chiaramente rimarrà molto meno pesante rispetto maglioncino lavorato in cotone che chiaramente il cotone è fresco non dà problemi sulla pelle ma rimane un pochino più pesante quindi questo potrebbe essere una buona alternativa a per realizzare un capo che non sia proprio fatto di lana ma che deve essere comunque di a colore ma che comunque rimanga anche leggero concludo questo video ricordandovi che potete acquistare questo filato insieme a tanti altri filati sul mio negozio online vi lascio il link del sito sulla descrizione del post e se invece avete difficoltà non avete molta dimestichezza con internet potete tranquillamente o chiamarmi per telefono oppure mandarmi un messaggio su whatsapp al numero che lascerò sempre in descrizione in modo che ecco vi aiuterò nella scelta e farò direttamente io l'ordine e non vivrò poi a casa il prezzo del gomitolo è di 1 euro e 60 per 50 grammi e vi ricordo che per acquistarlo ad un prezzo più scontato basterà effettuare un ordine di almeno 60 euro in questo caso questo prodotto insieme a tanti altri prodotti potrò diciamo proporverli a un prezzo molto più vantaggioso infatti questo gomitolo da 1 euro e 60 passa a 1 euro e 45 quindi acquistando un pacco da 60 euro potete ottenere diciamo questo gomitolo a 1 euro e 45 vi ricordo che potete pagare in qualsiasi modo bonifico ricarica post pay carta di credito paypal oppure contanti alla consegna con un supplemento in questo caso di 4 euro che purtroppo anche a me il corriere lo fa pagare e mentre le spese di spedizioni sono 6 euro se fate un ordine fino a 30 euro sono 3 euro per ordine dai 30 50 euro sopra 50 euro comunque le spese di spedizioni sono gratuite e se superate i 60 euro avete oltre le spese di spedizioni gratuite come dicevo prima uno sconto sui prezzi dei filati su quelli per lo meno che vi propongo ok anche oggi ho terminato il video spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti